Bentornati ragazzi a questa nuova puntata, siamo tornati finalmente su un Minesfrashcrash Finalmente, eh sì, abbiamo avuto un po' di problemini tecnici Riprende la saga Esatto Allora, spieghiamo un attimo le novità che abbiamo deciso di fare Integgiando il camionolotte Vabbè, andiamo un attimo in casa a parlare, dai Andiamo a giocare a poker Non mi ricordo neanche cosa sta... Che ha lanciato una spada Io Comunque, dicevamo ragazzi Dicevamo, abbiamo delle novità Esatto Abbiamo pensato Di rendervi più partecipi In questo In quanto Vogliamo che anche voi Ma, ma ciao Ma hai finito di romperte Dicevamo Vogliamo che anche voi possiate giocare con noi Cioè, che anche noi possiamo giocare con voi Anche perché non sappiamo Ci siamo coni Che non sappiamo veramente niente di questo gioco E che abbiamo tanto da imparare da ognuno di voi Quindi, indi per cui Ragazzi Vogliamo giocare con voi Cosa state facendo voi? È molto... Diciamo c'è molta tensione Intro di noi Oh, basta Luca, basta Dai, basta 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 Dentro il nostro mondo Poi vi spiegheremo come fare Esatto Sì, poi vi spiegheremo E così ci insegnate un po' le cose da fare Nello strafamondo anche voi Esatto Esatto Potete far parte del nostro mondo Venite con noi E qua Qua penso In questa zona faremo la parete Delle dedicazioni Mentre tanto Ruben Magari non hanno ancora capito Ogni puntata Ogni puntata Chi lo vuole Potrà partecipare con noi Potrà fare proprio la puntata con noi Noi Ovviamente Le richieste per partecipare Saranno semplicemente Di possedere Imachi Hamachi 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 Una collezione internet e minecraft Esatto Esatto Originale ragazzi Vabbè, ovvio Non è ovvio Quindi Hamachi Che si scarica gratuitamente Per chi non lo sapesse Non so Ma qua dove sono Nevica ragazzi Non volevo dirvelo Ma su Nevica Nevica Qui sopra Mi attaccano i zombie Ero qui tranquillo A scavare A fare le mie tolle Ma io volevo appunto Cadere giù Da torre In diretta Vivi fuori Ma chi Oh E chi è Oh E basta Verso l'infinito C'è il rato Non ti vedo più E sono ancora lì E oltre Ma ti vedi Eccolo E fu così Che esplose Famoli Non provare Non ho trovato dei cavalli Perché mi interessa No Non ho sentito Come era Epica la cosa Abbastanza Carino Abbastanza Mi pensavo cadessi di testa Se è andato in piedi Eh quello si è vero E' stato un po' E' stato un po' Demudente la cosa Abbastanza Abbastanza E se lo facessimo qua Continuiamo Ragazzi ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Restaremo in contatto Con tanti di voi Potete andare avanti Esatto ragazzi Vi aspettiamo numerosi Ciao E a me si Ma non credo ci sia il problema Attualmente Un giorno faremo anche Un party Dentro la casa nostra Di minecraft Ma perché no Perché no Basta che non c'è La piscina Esatto Dobbiamo fare la sfera Stroboscopica Guarda lì Bravo Deve mettere sotto la piscina Ciao Metteremo sotto anche Il link di Log me in Esatto E di TeamSpeak TeamSpeak E Appena potete Fatevi vivi Così ci organizziamo No E prima Vi fate sentire Prima ci organizziamo E riusciamo a fare la puntata Ciao belli Ciao Ciao belli E sono belli loro Sì sì Non ci sono anche D'altro